Ci troviamo in un universo che è stato dominato al principio della sua era dalla materia oscura, un universo che evolve dinamicamente e che oggi è dominato dall'energia oscura e sappiamo che ci sono due distinte categorie, due entità nell'universo i cui effetti sono visibili e misurabili grazie all'osservazione su larga scala delle strutture visibili nell'universo, quindi dei cluster di galassie e delle galassie. Sappiamo pertanto che c'è stata una materia oscura, che è una materia che deve essere pesante e lenta, che all'inizio dell'universo ha svolto il ruolo di centro di gravità permanente sostanzialmente. Come diceva Battiato? Come diceva Battiato, giusto per usare una metafora molto facile da capire. Senza questo centro di gravità permanente, il centro di gravità rappresentato dalla massa sarebbe stato insufficiente per poter permettere la creazione delle strutture larga scala e quindi delle galassie e delle stelle dei pianeti. Oggi l'universo sarebbe una distesa di gas molto rarefatto. E così non è, grazie alla materia oscura.